E' terminata con una sconfitta la partita della San Cataldese nel salotto del Santa Maria Cilento a Castellabate in provincia di Salerno. La squadra di casa si è imposta per 2-0 grazie alla doppietta di De Marco. Una vittoria che ha permesso alla squadra giallorossa di raggiungere proprio Verdamaranto in classifica a 34 punti in condominio anche con la Vibonese sconfitta a domicilio dal città di Sant'Agata. Il Canicattì, soltanto una lunghezza dietro a 33 punti, chiude la parte centrale della classifica. Questi i risultati della venticinquesima giornata del girone I di serie D. Trapaneci Reale 1-1, Santa Maria Cilento-San Cataldese 2-0, Ragusa-La Mezzia Terme 0-0, Real Aversa-Castrovillari 0-1, San Luca Canicattì 1-0, Mariglianese Locri 0-3, Vibonese Città di Sant'Agata 2-3. Catania Paternò 2-0, Licata Cittanovese 1-1. Per una classifica che vede sempre il dominio incondizionato del Catania a 66 punti, seguito sempre da Locri a 49, Città di Sant'Agata 48, La Mezzia Terme 40, Trapani-Licata 39, Vibonese-Santa Maria Cilento-San Cataldese 34 punti, Canicattì 33, Castrovillari 29, San Luca-Ragusa 28, Acireale 27, Real Aversa 24, Cittanovese 23, Paternò 21, chiude la Mariglianese a 17 punti. Grazie. Grazie.